Ho ricevuto questa mimetica dopo tutto questo tempo E poi non ho mai fatto... Ok Fortnite, grazie mille Eheh, sono Pazzox e ben ritrovato in questo nuovissimo video Come l'ho detto veloce Fortnite compie 6 anni, mamma mia quanto tempo E sono stati aggiunti nuovi incarichi con 3 oggetti gratis Facciamo 2 e mezzo Ma non solo, c'è anche un nuovo perk super segreto che sarà a tempo limitato E io non vedo l'ora di sbattere in faccia questa bellissima torta ai miei cari nemici Ma con il compleanno la mappa è cambiata un pochino Beh, andiamo a scoprirlo Ma come al solito io vi invito Inserisci il codice Pazzox all'interno dello shop di Fortnite Se vuoi supportare questo creatore Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories Ho augurato buon compleanno all'autista del bus Ma che cosa carina, questo non c'era nei vecchi compleanni Ma quella skin di Ramirez, non ce la danno mai Dov'è finita la città? I palloncini, non lo sapevo che ci fossero i palloncini So solo del perk super misterioso E festeggiamo un bel compleanno tutti insieme Mangia, mangia Buon compleanno Buon compleanno Signorina, balli con me Poteva anche ballare Signorina, tutto bene? Signorina, è un po' indecisa So che questo compleanno magari può confondere Però niente ragazzi, è il suo inferno Sarà colpa delle bende, dai sicuro Signorina Ah, il primo oggetto ce l'ha dato subitissimo Vabbè che è solito piccone di compleanno Però se posso dire era più carino questo Mamma mia, sono sei anni ragazzi Sei anni Devo mangiare adesso le fette di torta Adesso, 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 adesso Non posso perché ho troppa vita Ti sento che sei qua, eh Ma solo a me succedono queste cose strane Eh, beh È un bot? Un bot con dei gravi problemi? Ehi, ehi, ehi Ti permettere, sai Cretino Ehi, oh, mi dispiace per te Scusami Ahà, t'ho sgamato Tanti ag... No Tanti aguri A te Posso mangiare una torta Posso mangiare una torta Gnam Dammi il perk nuovo super segreto Dammi il perk nuovo super segreto Guarda che mi fa spendere tutti i lingotti adesso, eh Tutti quanti, guarda Voglio fare un test, scusatemi Ma se uso questo con i palloncini Che cosa succede? Quanto posso volare? Ah, no Mi toglie Peccato 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 È il momento di volare Taranana Ahà Poing, 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 poing Uh, che vita che ti ho tolto, eh Uh, altra torta Quanta torta che c'è qui È quello di prima Ah, a posto Non c'è più Ma se io faccio il potere del ghiaccio Sto per fare una cavolata Tutto bene Tutto bene Uh, un regalo di compleanno Finalmente Che mi dai? Che è successo alla mappa? Perché vedo 20.000? Ma che sta succedendo con quest'update? 20.000 20.000 Così Ok Non lo posso neanche togliere È tutto buggato male Niente Mi devo tenere quei 20.000 exp Sopra Voliamo Non mi ha fatto il potere del ghiaccio Non mi ha fatto il potere del ghiaccio E abbiamo preso Amico Guarda che ti vedo Scemo Vuoi giocare da nascosto? E ci chiamo da nascosti È infame Oh no Di nuovo Di nuovo Quegli exp Buggati Ma perché succede questo? Quest'anno a nessuno piacciono le torte A quanto pare Sono sempre tutte qua Ora che ci penso Il compleanno di Fortnite È lo stesso giorno di San Gennaro Quindi tanti auguri a me A caso Intanto che siamo a San Gennaro Si festeggia con una bella pizza Eccolo finalmente Tiene un palloncino quando salti Questo è nuovo Ma guardate che fico Ogni volta che salto Oh no Questo è un problema però Ahia ma fa danno giustamente Il palloncino però è rischiosissimo Non è un perk bellissimo Quindi se faccio così Quando meno se lo aspetta Cucu Mamma mia col palloncino piano piano E se facciamo la mega sorpresona Mi metto tipo qui Con un regalo E rimango dentro Nascosto Chissà se arriverà qualcuno A picconare il regalo di compleanno Ebbè ci tocca aspettare Sta arrivando qualcuno Sta controllando se c'è un buco Cucu Oh eccolo qua Sbloccato Il sesto strato Oh no Di nuovo lei Un'altra volta Ancora E' un vizio Che dire pazzoidi Sei anni di fortnite Mamma mia Il tempo Va veramente Tanto ma tanto veloce E voi Da che hanno giocate A fortnite Fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Che sono davvero curioso Noi ovviamente Ci vedremo Molto presto Con tanti altri Pazzi video E ovviamente Con un dolcissimo E carnissimo He hei Ciao 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 Ciao